Mi trovo nella Villa Peripato di Taranto, alcuni cittadini mi hanno fatto delle segnalazioni relativamente a zone di degrado, poi devo dire che una bellissima giornata, è iniziata la primavera, un sole magnifico, l'amore per Taranto, nonostante le nostre sofferenze, ma vedo delle persone che sono così impegnate nel chiacchierare, nel discutere tra loro, prendevano misure. Mi sono incuriosito perché non era una semplice chiacchierata, ma sembrava un qualcosa di organizzativo, qualcosa propedeutico a qualche evento, a qualche provvedimento che si dovrà prendere, boh chissà, avviciniamoci. Buon pomeriggio, scusate l'intromissione, ma vi ho visti affaccendati, confabulanti. Cosa state architettando? Perché vedevo delle misure che venivano prese. È la festa dell'1 maggio. Avete in mente qualcosa per l'1 maggio? Sì, è la festa dei lavoratori disoccupati. Magari più la festa dei disoccupati, oltre che ovviamente quella dei lavoratori. Sì, sì, è la festa dei lavoratori chiaramente, anche se delle famiglie. Fatemi capire un po', io ora così lo dicevo all'inizio del mio sportello del cittadino, ho detto ma questi che cosa stanno facendo? Pensavo inizialmente che foste dei geometri che dovevate riparare qui la rotonda, invece no. No, stiamo cercando di prendere spunto da Villa Peripato per poter fare una festa per la città, perché l'1 maggio, il concertone dell'1 maggio pare che non si debba fare, anzi più che sicuramente non si farà per questioni politiche. Adesso non saprei di sicuro, quindi evito di... Alla festa del 1 maggio, la festa dei lavoratori, la festa di tutti? Sì, infatti è proprio per questo che stavo pensando di poterla fare, anche perché parecchie famiglie dicono, ma perché non per noi, considerando poi anche l'associazione dei medici che dicono, ma noi non siamo lavoratori, così anche altri professionisti, l'avvocato è un lavoratore, il giornalista è un lavoratore, l'amministratore delegato è un lavoratore, quindi dovrebbe essere la festa di un po' di chiunque. Quindi bolle in pentola qualcosa? Ci proviamo, ci proviamo. Non sarà facile. Eh, lo so, lo so. Infatti non pochi ostacoli, non poche persone con il bastone fra le ruote, però noi stiamo insistendo, considerando poi che siamo autofinanziati, nel senso che stiamo mettendo mani nel portafogli e nessuno si è fatto ancora avanti. Chi si è fatto avanti è perché voleva solo visibilità senza contribuire in nessun modo. Beh, che dire, in bocca al lupo, perché il 1 maggio a Taranto deve esserci. A tutti i costi, il 1 maggio non è di nessuno, il 1 maggio è di tutti. Il 1 maggio non deve avere cappelli che si pongono sulla sedia. Ed è giusto che chi vuol dare un proprio contributo di buona volontà alla città, non da soli, ma insieme a quei cittadini amanti della nostra città, rimbocchiamoci le maniche, autofinanziamoci. Sì, facciamolo. Speriamo di avere qualche aiuto, ma qualora non dovessero esserci, noi siamo pronti. Diciamo che, usiamo un'espressione particolare, Tarantina, si dovrebbe dire è nato Piccin, si è partiti. Sì, è stato concepito. È stato concepito, sì. Speriamo pure di farlo crescere. In bocca al lupo, naturalmente. Grazie mille, grazie davvero.